Voglio che consacra, voglio che profuma, voglio che risana le cose. Cosa mi lega a San Vincenzo Pallotti? E' che lui fu il primo a dare attenzione al valore, al laicato, come soggetto di annuncio e di impegno. La sua vita consacrata è il sacerdozio, perché ognuno attraverso le proprie capacità e le proprie possibilità, grazie alla varietà del carisma pallottino, può contribuire a ravvivare la fede e riaccendere la carità di ogni cristiano. Attraverso l'evangelizzazione, la testimonianza di Dio, dell'opera d'amore di Dio, con la propria vita, con la missione, con ogni opera possibile. Anche nell'ultimo tempo in cui non si hanno più le forze, solo con la preghiera. Ecco, sono Cicely. Sono felice di essere una Sora Pallottina. Vivo la mia consacrazione accanto all'uomo soffrente. Come dice Papa Francesco, tocco ogni giorno le membra soffrenti di Cristo. Ed insieme a San Vincenzo cerco non solo ad averne cura, ma anche di portarlo a Gesù. E lo faccio amandolo e interessandomi della sua vita. Ogni carezza data al malato penso di darla a Gesù. E questo è il mio postulato. La bellezza del sacerdozio, sì, te lo dico subito qual è, è quello di dimenticarsi totalmente di se stessi per ritrovarsi in chi aiuti, proprio come immagine di Cristo che si dilata negli altri. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.